Leo non mi chiama. Perché non mi chiama? Sta costruendo per il figlio un nido, fuscello su fuscello, un po' di malta, agli operai brevi istruzioni e sapide, e poi, sbattendo i vanni, gli dà vita. È sul finire della piaggia il nido, lungo la quale una casetta c'era, in completa rovina, e da cui un lupo guardava ardente il volto mio spaurito, lungo la quale il gran Mariacaco, guardinco, usciva già alle prime luci col pennello e la colla e i manifesti del lutto, vasta pelle, macolata. Ma Leo perché? Perché Leo non mi vesti? Perché Leo non mi vesti? Perché Leo non mi vesti?